Buongiorno ragazzi, oggi volevo farvi il vlog della mia giornata, di cosa mangio per tenermi in forma e solitamente faccio questi video nel mio canale brasiliano, però ultimamente i canali italiani, brasiliani, i canali su YouTube in generale stanno andando malissimo, quindi volevo fare un test se magari qui in questo canale vi può interessare. E niente, adesso sono le 9, sto qua mettendo il telegiornale in tv e poi farò la mia colazione. Io la mattina mangio, anzi nella mia dieta mangio poco carboidrato perché sono allergica e allora di solito scelgo quelli più sani, in poche quantità, anche perché il mio nutrizionista mi ha passato di mangiare una volta a settimana un pasto libero, così posso mangiare carboidrati che di solito non riesco a mangiare. E niente, oggi c'è una bruttissima giornata, ma fa niente e adesso facciamo colazione. Allora io adesso sto usando queste proteine qua, che sono di questa qui, è di vanilla. Di solito mi piace il gusto del cioccolato perché secondo me nausea molto meno e uso un po' di lamponi e la creatina non sto utilizzando in questo momento perché il nutrizionista ha detto che non c'è bisogno. Sta già finendo, però io ce l'ho un'altra. Ho anche questa qua che parlano molto bene e allora ho voluto provarla. Ho presa di questo gusto qui, solo che non lo so, secondo me questa qui è molto meglio perché questa ho trovato un difettino che praticamente se la fai e non la bevi subito sale tutta la proteina su e in basso rimane tutta l'acqua. Allora non mi piace perché io non è che bevo solo proteina la mattina e allora magari la faccio e la lascio da bere 10 minuti dopo mentre sto mangiando le mie fette biscottate. Però succede questo quindi come gusto mi piace tantissimo, però a me non mi piace per questa cosa qui. Infatti l'ho presa e è ancora così. Non ho ancora bevuta tutta, la lascerò quando farò pomeriggio che bevo subito. Invece questa è già in questo stato qua. Di solito di questa qui prendo quella da 2 kg e niente. Due misurini e un po' di acqua e basta. Proteine con acqua, non tanta perché sennò poi mi riempie troppo. Un bicchiere di acqua con le medicine, i supplementi, fette biscottate e caffè. Adesso sono le 10 e mezza e sto andando in palestra perché io faccio anche le camminate però siccome adesso fa un pochino più freddo, mi sa che pomeriggio esce il sole, allora pomeriggio faccio le camminate e adesso mi alleno, devo fare i quadricipiti. Allenamento finito, non sono riuscita a registrare tutti gli allenamenti per voi perché la palestra è piena, quest'ora di solito è pieno. Se magari vi piace questo video e volete vedere magari quadricipiti, glutei superiori, quello che volete, fatemi sapere nei commenti e cercherò di andare a un orario che c'è meno gente così riesco a registrare. Adesso vado a casa e preparo il pranzo. Questo è il mio mega galattico pranzo, una insalatissima, insalatissima nel senso che è una insalata mista con tutto quello che ho diritto, non so neanche quello che c'è perché c'è a mezzo e tanta roba. E il tonno, io una bella Red Bull senza zuccheri. E adesso cardio, facciamo 6 chilometri di camminata nel bosco. Senza molta voglia ma per forza bisogna fare, fa parte della vita. Su come merenda mi farò una bella tapioca e poi farò due uove fritte con l'olio di cocco e inserisco dentro la tapioca. Voi mi chiedete sempre dove trovare questa tapioca. Praticamente questa qui è pronta, che la mettete in padella e diventa la tapioca. Vi farò vedere come si fa. Però questa qui l'ho presa nel supermercato brasiliano, l'ho comprata online. Vi lascio il link se vi può interessare, però secondo me non costa poco perché è mezzo chilo, costa 6 euro. Invece c'è un altro supermercato brasiliano di Bergamo che praticamente un chilo costa 6 euro. Ma comunque ho visto che non è disponibile. C'è chi piace prima passare nel colino la tapioca, che così almeno esce bella liscia. Ma io faccio così. Io la butto proprio così nella padella senza ungere il senso a niente. L'ho messa così in padella. Se voi preferite potete mettere una padella più grande, però se la padella è tanto grande bisogna mettere tanto impasto. E siccome non è che ho tanta tapioca così nella dieta, allora io non metto tanta così. Se magari vi piace, se magari vi piace no, non è salata questa, quindi bisogna mettere un po' di sale. Ma io non metto perché tanto poi c'è sale nell'uovo. Io faccio così, la sistemo bene prima di accendere il fuoco. Il fuoco è spento. Quindi se magari prendete la tapioca sapete come si fa. E attenzione perché in tanti stranieri ci sono dei pacchi di fecola di mangioca alla fine questa. E c'è scritto tapioca, ma non è tapioca. Se voi vedete perché la tapioca è una farina un po' umbida. Invece quella che dicono che è tapioca e non è che ci sono qua degli stranieri. E' per fare il pò di chiesa o per fare altre cose. Che comunque poi più avanti magari farò vedere come si... com'è. Allora accendo il fuoco e io metto 1,6 in temperatura più o meno. Praticamente è come farsi la piadina. Per sapere il punto di girarla quando... si capisce comunque. Adesso vi farò vedere. Potevo anche farla una pentola più grande, però poi mi venivo troppo sottile. E questa cosa qui, la tapioca, non è come la piadina italiana che deve essere sottile. Perché se è sottile si spacca. Quindi deve essere un po' spessa. Allora, vediamo un po'. Io faccio così negli angoli per sapere se posso girarla. Ma si vede già che non posso perché la farina è ancora... si sbriciola. Non è compatta. Quindi lascio ancora. Se magari volete mettere un po' di semini di scia, potete mettere. Vedete che più o meno mentre cuoce, le laterali si sollevano un pochino. Perché così vuol dire che si sta cuocendo sotto. Però non è ancora il momento di girarla. Non è tanto facile, eh? Per chi non lo sa. Non è tanto facile di sapere il punto giusto. Per quello che, siccome mi chiedete sempre quando faccio dei video anche in mio canale brasiliano, allora ho pensato di mostrarvi velocemente qua. Adesso è il momento di girare. Vedete che è bella compatta. Però qua una mano sola non è tanto semplice. Non è tanto semplice che una mano sola. Adesso faccio cuocere della trapate. La merenda è pronta. Ho fatto un uovo strapassato. L'ho messo qua dentro la tapioca. E si mangia così, vedete? Di solito in Brasile si mangia anche dolce, però non è molto sano. Si fa così. Dentro si mette il cocco grattugiato con latte condensato. E fragole. È buonissimo. E si mangia anche così. Però io la mangerò così che non dà modalità. Come cena ho deciso di preparare delle zucchine cotte con delle uove sode. Allora ho fatto queste due cose perché a volte voglio stare un po' più leggera. E questo è tutto ragazzi. Stavamo già del cocco. Spero che vi sia piaciuto questo video. E se vi piace mettete un like, lasciate un commento qua sotto. Questo video è uno sperimento per sapere se magari vi può interessare questi tipi di video. Perché voglio farvi anche dei video che parlo del Brasile. Quindi se avete qualche curiosità di sapere, fatemi sapere quali commenti. Perché a volte vedo che ci sono della gente che fa dei video che parla del Brasile. Ma dice un sacco di cose che a volte penso che dicono perché sono frustrati. Perché vivono là da tanto tempo. Allora sai, io sono una persona che anche se sono brasiliana, io sono una persona obiettiva. Che lo so che là ci sono tante cose brutte, tante cose negative. Ma ci sono anche delle cose positive. Poi se dipende da che punto bisogna prendere le cose. Perché se uno va a vivere lì, le cose sono diverse. Ma se uno va a fare una vacanza, tutto cambia. Quindi dipende un po' da che cosa volete fare là. E niente, questo è il video. Se vi è piaciuto mettete un like. E magari farò altri se magari vi piace. Ciao!